Per fare squadra in vista delle prossime elezioni comunali, i rappresentanti napoletani di Fratelli d'Italia avevano invitato il segretario nazionale Giorgia Meloni. L'ex ministro della gioventù dell'ultimo governo di centrodestra avrebbe dovuto concludere un dibattito sul governo della città metropolitana per la competitività del territorio e invece ha dovuto rinunciare assente. Presenti invece il parlamentare Marcello Taglialatela, il presidente cittadino del partito Luigi Rispoli ed il vice coordinatore regionale Luciano Schifone. L'assalto quindi a Palazzo San Giacomo parte senza il leader nazionale che alle ultime regionali aveva sostenuto l'ex governatore Stefano Caldoro ma che ora guarda disorientata nel deserto del centrodestra cittadino. Abbiamo scelto tre temi che secondo noi sono centrali nel dibattito politico di questi giorni. Il primo riguarderà una tavola rotonda che vedrà coinvolti anche esponenti politici di altre forze politiche per discutere di quello che dovrà essere la governanza della città metropolitana e la governanza del territorio comunale di Napoli. L'altro tema riguarderà lo sviluppo del sud e in questo abbiamo coinvolto anche espressioni della società civile che in qualche modo sono portatrici di grandi competenze, grandi conoscenze e hanno anche un'esperienza in materia per quello che riguarda lo sviluppo del territorio. Il terzo appuntamento che vedrà impegnati i segretari dei partiti del centrodestra riguarderà ovviamente l'avvio di una fase di dibattito interno alla coalizione di centrodestra che ci dovrà portare a costruire la migliore coalizione possibile. L'appuntamento politico più importante sia per quel che riguarda la città di Napoli ma anche tutta la regione. Teniamo conto che tra l'altro, oltre all'importanza del capoluogo dell'area metropolitana della città di Napoli, votano contemporaneamente anche Salerno, Benevento e Caserta. Quindi mi pare che sia un elemento molto importante per tutta la regione, voteranno praticamente l'80% o il 90% degli elettori e quindi una necessità per il centrodestra di organizzare e mettere in campo un progetto credibile dal punto di vista dello sviluppo degli enti locali per l'unità della regione. Grazie.